ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco ti al a cosa serve ti ala un parafarmaco appartenente alla categoria degli idratanti tonificanti rassodanti multifunzione corpo è commercializzato in italia dall'azienda per farma di psrl informazioni commerciali titolare per farma di psrl concessionario per farma di psrl categoria di appartenenza idratanti tonificanti rassodanti multifunzione corpo confezioni ti al lipogel cute e mucose 75 ml indicazioni lipogel alla vitamina e rilipirizzante lenitivo protettivo descrizione e caratteristiche ti ha la marchio registrato e lipogel è un prodotto con formula anidra completamente naturale a base di oli vegetali pregiati arricchita con un altro dosaggio di vitamina e i suoi componenti risultano particolarmente efficaci nel rilipirizzare cutie mucose e attuare come coadiuvanti in prodotto cosmetico una rapida azione lenitiva su arrosamenti e irritazioni di generale natura ti ala marchio registrato e lipogel è dotato di proprietà emollienti e protettive di cute e mucose è indicato anche per la pelle più sensibile e fragile come quella del bambino e dell'ansiano avvertenze uso esterno evitare il contatto con gli occhi non utilizzare su cute l'esa o abrasa tenere fuori dalla portata dei bambini non contiene profumi siliconi e petrolati senza conservanti aggiunti componenti e ingredienti vitis vinifera seed oil prunus amigdalus dulcis oil silica tridroc cisterine triticum vulgare germ oil tocotrienols fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato diciamo ciao bambini bell nici Grazie.